ma vedi che cosa vuol dire sono le otto e dieci e ancora non sale sto parlando di mia figlia samara che è il giusto per il becco perché il piede non ne mette più a casa mia hai capito finché non viene sua madre piede non ne mette più sono qua giù nella scala loro ho capito in casa non è stata Samara dove sei Samara che ti mette Samara non ti ha mucione su questa scala però hai capito qua ti devi mettere spicciati che tardi che dobbiamo mangiare no non può salire il becco ti ho detto capito allora bisogna parlare chiaro capito senti il becco ma fare un grande un grandissimo favore tu di domenica non devi venire più lo capiste ma vedi che cosa tale che tale come fu Samara che cos'è questo bacio dato così ma ci hai dato la lingua Samara ma che cos'è questo bacio così a chiedere subito sali subito subito ti ho detto subito vattene a casa tu vattene e cerca di non venire più per ora ma vedi che cosa ma vedi che cosa ancora non l'ha capito a te ha detto c'era lingua Samara capito tu fassurare io un bacio come l'hai detto poco fa grandissima porca che non sei altro a chiedere ti fa sabirire io che ti fa sabirire io che ti pisto ti pisto ciao Filomena niente 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 Samara Samara con il fidanzato talia pur chiedere che c'è Piera che cosa c'è non è successo niente mia figlia Samara con il fidanzato ma vedi come sa che cosa a due ore che si baciano l'hai visto tu dall'occhiolino e allora ragazzi sono che cosa vuoi pensa tu che ti fassi tu all'età che hai no veramente c'è da sali 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 subito sali scusatemi eh scusatemi tutta la scala ma purtroppo non si fa già così chissà chissà mi fa camminare con pare che cosa a te aspetto 5 minuti e sali è finita la festa ci siete ci siete neppure tu Filomena e tu ti fai affare tua Piera Samara se entro 5 minuti non sali scendo io che cucchiare l'igno tu sei ricerno lo capiste ci faccio vedere io la francese lo sapete che quella che stava sopra di me la signora francese se n'è andata finalmente mi sono liberata di chissà gran camuglia che camminava che zocco le regia ho capito che zocco le regia che zocco le camminava pop pop me lo faceva apposta ma che cosa fu aveva fatto lo sfratto capito perché si senteva tutta e non pagava la casa non pagava la casa signore camminavano con macchinone e non pagava la casa perché ah Filomena ho sentito che c'è sopra un teseo signore per chi ci fai il sfratto il padrone di casa sì la signora per bene da ricordi state silenzio non sono abituata domenica vado al ristorante pop piccate chissà non hanno pagato la casa capito non hanno pagato la casa per un anno un anno senza pagare la casa ma a me non mi hanno sorpassato io avevo anni con me ma lo capite sì la signora Fina che chissà difendeva pure Piera lo capite signore no perché non aveva neanche la faccia la dignità di dire a noi perché se ne andava sì sì ma chi c'ha in quell'età chi c'ha in quell'età quanta vecchia se ne ho speriamo che non viene però con chi ne ha capito quanta vecchia se ne ho il pianerotto lo bello pulito perché il suo marito era speggioso faceva chi pere da cussì davanti alla mia porta lo capisce Samara a chiamare e basta deve salire sale scusate signore mio i figli purtroppo fanno fare a bere lo capisce vi saluto ma che puzza che cosa sta cucinando Piera chi cus schifo schifo cosa l'anguilla l'anguilla perché c'avevo ma vedi che l'anguilla cus ci piace signori è la forma che ci piace perché secondo me manca una mancia piglia su pisce si mette già e si taglia è vero amone forza che va parecchio va parecchio che sa chiamando sa chiamando Samara che così vediamo come si è permessa a darci un bacio che l'ho visto io un bacio linguistico come si è permessa a darci un bacio linguistico che io ce l'ho detto stai attenta quando va ho detto io mica può dire che non è vero il bacio linguistico l'ho visto io non è vero